Zombie Apocalypse My Home My Destiny Anticipazioni di mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023 Baris è afflitto da una febbre molto alta, mentre Zeynep si prende cura di lui, che nonostante la sua febbre, continua a lavorare. Dopo che Zeynep, determinata, riesce a convincerlo ad andare in doccia, per cercare di abbassare la temperatura. Intanto, Mehdi, in carcere, sta discutendo con i suoi compagni di cella, cercando di capire chi sia la persona che lo sta provocando, e causando problemi. Dopo la doccia, la febbre di Baris non accenna a diminuire, e Zeynep cerca di abbassarla bagnandolo con un asciugamano freddo, ma sembra non sortire alcun effetto. In uno stato di semincoscienza, Baris si appoggia a Zeynep, posando la sua testa sulle sue ginocchia, creando una situazione imbarazzante, che non sfugge all'occhio pensieroso e contrariato di Savashe. Zeynep, sempre più a disagio, cerca di spostare delicatamente Baris, dicendogli che la posizione potrebbe fargli male al collo. Tuttavia, mentre Baris è ancora in uno stato di semincoscienza, si gira verso Zeynep, e la bacia improvvisamente, lasciandola senza parole, e lasciando Savashe sempre più sconvolto. Baris continua a dormire, mentre Zeynep esce dalla stanza. Zeynep, si dirige verso il salotto, e si congeda da tutti, ma prima di andarsene, chiede ad Ali Risa di portare Baris in ospedale, se la situazione non migliora, e di chiamarla per qualsiasi necessità. Con lei, vanno via anche Emine e Sultana. Nel frattempo, Mehdi, in carcere, si reca al bagno per lavarsi, e qui viene improvvisamente aggredito alle spalle da Osman, armato di un coltello. Osman gli rivela che questa aggressione è in nome di Vaisy, e dopo averlo minacciato, lascia Mehdi sanguinante sul pavimento del bagno. Mehdi, in preda al dolore, invoca sua figlia, e perde completamente i sensi. Viene ritrovato svenuto il mattino successivo da alcuni compagni di Cella. Intanto, Zeynep si reca a casa di Baris con una zuppa, ma lo trova sorprendentemente vestito con camicia e cravatta, pronto per andare in ufficio. Baris le confessa che il giorno precedente non era completamente se stesso, e le chiede se avesse fatto qualcosa di inappropriato, ma Zeynep nega. Poi, Zeynep informa Baris della visita di Nu e Gemile, e della loro richiesta di ritirare la denuncia. Baris la mette in guardia, dicendole che, se accettasse, tutto ricomincerebbe da capo, e lui si arrabbierebbe molto. Successivamente, escono insieme per recarsi al lavoro. A casa, Benal, Gemile, e Kibrit, si stanno prendendo cura della piccola Mujgan, quando ricevono la notizia che Mehdi è in ospedale in gravi condizioni. Intanto, Sultan si trova con Alirisa, che propone a lei e alla figlia di prendersi cura di Savashe, Sultan in cucina, ed Emine come assistente ed infermiera. Sultan, tuttavia, rifiuta qualsiasi pagamento per prendersi cura di Savashe. Alirisa insiste, sottolineando che sarebbe un lavoro a tutti gli effetti. Sultan risponde che deve prima discuterne con Emine. Nel frattempo, Nu e Gemile sono in ospedale, ma non possono ancora vedere Mehdi, il che preoccupa Gemile, ansiosa di sapere le condizioni di suo fratello. Poi, Gemile inizia a disperarsi temendo di perdere Mehdi, così come ha perso Mujgana. Gemile sfoga la sua rabbia su Zeynep, colpevolizzandola per la rovina di Mehdi. In bocca il divino, dichiarando che Zeynep pagherà le conseguenze, se qualcosa dovesse accadere a Mehdi. In ufficio, intanto, Barish, Zeynep, e altri colleghi stanno lavorando, quando Kibrit chiama Zeynep per informarla di Mehdi, ma lei vede la chiamata, e decide di non rispondere. Intanto, in ospedale, il dottore informa Gemile e Nu che l'operazione di Mehdi è andata bene, ma che i suoi organi sono danneggiati, e sta lottando per la vita. Il medico, spiega che, al momento, non possono vederlo, perché è in terapia intensiva. Gemile, sempre più fuori controllo, continua a incolpare Zeynep per la vita in pericolo di Mehdi, mentre Nu è impotente di fronte alla situazione. Emine e Sultan si trovano in macchina, e Emine racconta a sua madre del corso di inglese che vorrebbe frequentare, sotto consiglio di Savash, che potrebbe aiutarla nella ricerca di lavoro, e nella sua carriera, ma è un corso costoso. Sultan, a questo punto, rivela l'offerta di lavoro fatta da Alirisa, ma Emine si offende, e rifiuta l'idea di andare a casa di amici per farsi pagare. Tuttavia, entrambe concordano sul fatto che Alirisa sia stato maleducato a offrire loro dei soldi. Zeynep torna a casa dal lavoro, e mentre sta entrando in casa, viene verbalmente attaccata da Gemile, che la stava aspettando. Gemile le urla che Mehdi è in pericolo di vita a causa sua, e che le aveva detto di ritirare la denuncia. Arrivano anche Nermin e Sakine, richiamate dalle urla di Gemile. Quest'ultima, continua ad urlare contro Zeynep, che rimane attonita. Nermin e Sakine la portano via, rientrando in casa. Mentre Sakine, Emine, e Nermin, discutono sulla veridicità delle parole di Gemile, Zeynep, con lo sguardo perso nel vuoto, si alza di scatto, e dichiara che deve vedere con i propri occhi cosa è successo. Nonostante gli sforzi di Nermin e Sakine per fermarla, Zeynep riesce a divincolarsi, e si dirige verso l'ospedale. A questo punto, Nermin chiama Barish, e lo informa della situazione di Mehdi e Zeynep. Barish annulla immediatamente una cena di lavoro, e si prepara per recarsi in ospedale. Zeynep, giunta all'ospedale, chiede informazioni sulle condizioni di Mehdi, ma viene intercettata dal suo avvocato. L'avvocato, le rivela che la vita di Mehdi è in grave pericolo, e che, se non ritirerà la denuncia, la sua vita diventerà un inferno, anche se dovesse sopravvivere all'aggressione. Questo perché l'attacco a Mehdi non è stato casuale, ma premeditato. L'avvocato la conduce davanti alla finestra della stanza di Mehdi, mentre un'infermiera spiega che i suoi organi sono gravemente danneggiati. Con le lacrime agli occhi, Zeynep chiede di essere lasciata sola, e rimane dietro il vetro a osservare Mehdi. In quel momento, arriva Kibrit, che la chiama, e si arrabbia, perché Zeynep non le aveva risposto al telefono. Poi, Kibrit rivolge parole dure a Zeynep, dicendole che sta per diventare maggiorenne, e che si occuperà lei personalmente del padre, e che, invece, del suo aiuto non ha più bisogno. Kibrit continua la sua invettiva, accusando Zeynep di essere la causa di qualsiasi cosa possa accadere a suo padre. Zeynep, impietrita dalla situazione, viene raggiunta anche da gemie. Tutto d'un tratto, un'infermiera dell'ospedale, urla che il cuore di Mehdi si è fermato. Tutti corrono alla finestra della sua stanza, osservano con angoscia le manovre di rianimazione effettuate dai medici nel tentativo di far ripartire il cuore di Mehdi. Dopo lunghi e interminabili minuti di tensione, sembra che il cuore di Mehdi non stia reagendo, e tutti si disperano. Piangendo. Ma poi, finalmente, esce il medico, e annuncia che il cuore di Mehdi ha ripreso a battere. Le lacrime di disperazione si trasformano in lacrime di gioia per tutti i presenti. Zeynep, visibilmente scossa, prende una penna e un foglio, scrive alcune righe, e consegna la sua dichiarazione di ritiro della denuncia a Gemile, sotto gli sguardi attoniti di Baris e Nermin, appena giunti in ospedale. Baris e Nermin incrociano lo sguardo di Zeynep, mentre Gemile la abbraccia per ringraziarla, e se ne vanno, visibilmente irritati. Zeynep li raggiunge, e cerca di spiegare loro che lo ha fatto perché Mehdi stava morendo. Tuttavia, Nermin non sente scuse, e le urla che si vergogna di lei. Baris le dice che porterà a casa Nermin, e Zeynep sale in macchina con loro. Quando Baris e Zeynep rimangono in auto da soli, Zeynep cerca di giustificarsi, ma Baris è adirato, e le dice che il suo gesto non è stato un atto di misericordia, ma una debolezza, chiaramente dettata dai suoi sentimenti d'amore. Quindi se ne va, annunciando di avere una riunione importante il giorno successivo. Una volta tornata a casa, Zeynep deve affrontare un confronto con Sakine, che la rimprovera per le sue azioni. Le due madri la aggrediscono verbalmente, mentre Zeynep tenta di spiegare che ha agito pensando al bene di Kibrit e della piccola Mujgan. Nermin, tuttavia, è completamente fuori di sé. Dopo averle ricordato che Mehdi l'ha rapita, le mostra ai giornali che le avevano nascosto per non farla soffrire. Su quei giornali, la storia di Zeynep viene raccontata come una vittima che è scampata al rapimento del marito, diventando un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Zeynep piange mentre osserva i titoli dei giornali, e mentre Nermin le urla che una volta è andata bene, ma le cose potranno solo peggiorare, ora che ha ritirato la denuncia. Poi, Nermin se ne va al piano di sopra, esprimendo la sua vergogna nei confronti di Zeynep e la giovane ragazza singhiozza disperata. La mattina successiva, Zeynep è seduta in cucina, con davanti i giornali che riportano la notizia su di lei. Arriva Sultan, e Zeynep le chiede se anche lei si è arrabbiata. Sultan non risponde, e comincia a spruzzare del detergente sui vetri, poi strappa gli articoli del giornale su Zeynep, e li usa per pulire. Poi, Sultan si siede al tavolo, e le dice che amare non significa sacrificare se stessi. Zeynep ribatte, affermando che non ama Medi, e che anche Baris ha insinuato questo, ma è falso. Sultan le ricorda il coraggio che Baris ha dimostrato nel rischiare la sua vita per salvarla da Medi, e si è arrabbiato per la possibilità che lei sia ancora innamorata di Medi, anche se Zeynep nega quelle supposizioni, affermando che Baris nemmeno la guarda. Sultan, poi, pone delle fette di patate sulle occhiaie di Zeynep, dicendole che non può presentarsi in ufficio in quel modo. Infine, aggiunge che ora non riesce a vedere, così come non si rende conto dei suoi sentimenti per Baris. Gemile, in ospedale, ottiene il permesso per entrare nella stanza di Medi, che intanto si è svegliato, e sta cercando di ricostruire nella mente i momenti dell'aggressione. Quando arrivano Gemile e l'avvocato, Medi rivela che l'aggressore gli ha mandato i saluti di Vaisy, l'assassino di suo padre. L'avvocato informa Medi che ora dovrà tornare in prigione per un paio di giorni, in attesa della possibile scarcerazione, e gli raccomanda di stare attento, di non rimanere mai solo, poiché l'aggressione potrebbe ripetersi. Medi, sprezzante, afferma di non vedere l'ora di incontrare Vaisy, ma Gemile gli ricorda che, se gli dovesse succedere qualcosa, lei ne morirebbe. Successivamente, Gemile informa Medi che uscirà presto, e che Zeynep ha ritirato la denuncia, e che la sera prima era lì. L'avvocato aggiunge che Zeynep si è spaventata, all'idea che fosse in pericolo a causa di un'organizzazione criminale, motivo per cui ha scelto di non denunciarlo. Gemile aggiunge che Zeynep ha ritirato la sua denuncia con una condizione. Nel frattempo, Zeynep arriva in ufficio, e scopre che Baris ha saltato, per la prima volta nella sua carriera, una riunione. Sultan riceve una telefonata da Alirisa, il quale informa che lei ed Emine sarebbero dovute andare al lavoro quel giorno stesso. Sultan ribadisce il suo rifiuto, e afferma che, né lei né sua figlia, vogliono lavorare per lui, considerandosi offese. Tuttavia, Alirisa manda loro una macchina per andare a prenderle, e discutere insieme della situazione. Zeynep entra nell'ufficio di Baris, e chiede di discutere di quanto accaduto la sera precedente. Zeynep rivela di aver ritirato la denuncia a condizione che Mehdi lasci la città. Baris risponde che Mehdi non se ne andrà mai, e le dice che lei può fare una cosa del genere solo per amore. Zeynep risponde che non lo ama, ma che non può voltargli le spalle, perché lei non è quel tipo di persona. Baris insiste, affermando che Zeynep lo fa perché vuole Mehdi sempre lì, e che lei ama i problemi, e li cerca consciamente. Le parole di Baris colpiscono profondamente Zeynep, e Baris le dice che, d'ora in poi, parleranno solo di lavoro. Zeynep gli lascia dei documenti sul tavolo, e gli augura buona giornata. Emine e Sultan sono a casa di Alirisa, e lui cerca di rassicurarle, dicendo loro che non devono sentirsi offese, in quanto lui è un uomo d'affari, e ha bisogno di chi comandi la casa. Aggiunge che Savas ha bisogno di persone, non di servitori, e che insegnerà l'inglese ad Emine. Arriva Savas, che chiede allo zio di convincere Emine, ma davanti a loro, Alirisa risponde che è difficile, perché Emine è testarda come sua madre. Alla fine, Alirisa e Savas riescono a convincere le due donne, tra spensieratezza e sorrisi. A casa, Gemile e Benal trovano Nu, che non è andato al negozio. Nu spiega che non c'è più il negozio, in quanto una ditta è venuta a portare via tutto, a causa di una clausola contrattuale che non sono riusciti a pagare. Adesso il negozio è nelle mani di altri, e loro dovranno lavorare per ripagare il debito. Gemile suggerisce di parlare con l'avvocato, ma Nu ribadisce che lo ha già fatto, e che non possono fare nulla per riavere il negozio. Gemile si preoccupa di cosa accadrà quando Medi uscirà di prigione, dato che ora dovranno lavorare per qualcun altro, e Medi non sarà in grado di farlo. In ufficio, Baris chiede a Zeynep di rifare un documento, a causa di una macchia di caffè. Zeynep lo rifà immediatamente, e Baris le chiede di esaminare insieme il dossier, e le porge una nuova tazza di caffè. Baris, poi, informa Zeynep che Emine e Sultan lavorano per lui, e Zeynep è molto felice della notizia. I due parlano cordialmente, superando le tensioni delle ore precedenti. Medi, intanto, chiede all'infermiera se ha il diritto di effettuare una chiamata. L'infermiera risponde che deve chiedere al suo avvocato, ma Medi ribatte che vuole chiamare un avvocato, anche se non è il suo. L'infermiera gli ribadisce di aspettare. Di sera, Kibrit va da Zeynep e si scusa per il comportamento del giorno precedente. Zeynep l'abbraccia e le dice di non preoccuparsi, e che l'ha già perdonata. Nermin osserva la scena dalla finestra, e commenta che, secondo lei, stanno rivoltando quella ragazzina contro di loro. Sultan risponde che Nermin dovrebbe perdonare Zeynep, ma Nermin è categorica. La discussione tra le due donne viene ascoltata da Zeynep stessa, che è appena rientrata, e affronta subito sua madre. Le due continuano a non capirsi, e Zeynep si ritira nella sua camera, senza cenare, con la scusa di dover lavorare. Zeynep mette una canzone, e si lascia andare ai suoi pensieri, mentre Sakine le porta la cena, e Nermin è sempre più chiusa nelle sue posizioni. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata. Grazie a tutti.